E guardano, anche gli eseguenti, esce velocissimo, il tippe è stato dal caccholetto, vediamo, saltano il primo, il secondo è il primo, il secondo è il primo, il tippe è stato con banca leoni a frattura questa batteria, è proprio lui ma non volerlo anche il secondo è il tec. E ancora, allora vediamo qui sono, sono il titolo, c'è la citistica, la tessia di mezzo è spuntata, è lui, la citistica è la stessa, il secondo è il 40 anni, e il terzo ancora.